Una turpe storia di violenza venuta alla luce solo al coraggio di una madre e di un ragazzino che una volta compreso il disagio del proprio figlio, vittima di sevizie senza esitazione, ha avuto la forza di rompere il silenzio e di denunciare tutto ai carabinieri di Mazzarino. Era il 2009. A distanza di 7 anni, ieri sera, è giunta la sentenza irrevocabile di condanna per chi si è macchiato di quel gesto. Si tratta di un 21enne e di un 23enne, all'epoca dei fatti minorenni, condannati a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Sono stati i carabinieri ad arrestarli e a rinchiuderli in carcere. L'ordine di esecuzione è stato messo dalla procura dei minori di Caltanissetta. L'accusa di violenza sessuale di gruppo è in concorso continuata, sequestro di persona ed estorsione a carico di un loro coetaneo. All'epoca dei fatti, i tre giovani avevano un'età compresa tra i 14 e i 16 anni. La vittima aveva subito gravi gesti di violenza sessuale e ricatto dai due ragazzi. Gli arrestati, infatti, dove averlo portato in una zona rurale di Mazzarino, lo avevano trattenuto con la forza e dove averlo legato, lo avevano sottoposto ad atti sessuali reterati contro la sua volontà. Non paghi, i due lo condussero in un garage nei pressi delle loro abitazioni e lo sottoposero a nuove servizie. La fragile personalità del ragazzo, oltre ad essere scossa da questi gravissimi gesti, fu ulteriormente oltraggiata dalla richiesta estorsiva dei due giovani che, pena la rivelazione dei servizi ricevuti e lo sbeffeggio dell'intera comunità, gli estorsero la somma di 1000 euro per acquistare il proprio silenzio. La triste vicenda, come dicevamo, venne a galla grazie alla madre del ragazzo che raccolta le testimonianze del figlio, raccontò tutto ai militari dell'arma. L'indagine fu svolta con scrupolo e riservatezza. Ieri sera è arrivata la condanna per i due ragazzi.